Fino a ieri si pensava che la procura federale fosse come una procura della Repubblica normale, con magistrati che fanno il loro lavoro, indagano, vedono quello che hanno in mano, interrogano e si fanno una certa idea, giusta o sbagliata che sia, e poi vanno al processo portando prove e anche indizi per trarre le loro conclusioni. Ieri invece si è avuta l'impressione di aver fatto un salto all'indietro nel tempo clamoroso. In quella stanza, poco illuminata, sembrava di essere tornati al Medioevo, quando la Santa Inquisizione conduceva a modo suo indagini per casi di stregoneria o di eresia. A modo suo, appunto, con chi collaborava, che veniva trattato in un certo modo, con alla fine una condanna a morte, certo, ma confortata dal sacramento e dal perdono. Chi non collaborava o non confessava, perché magari innocente per davvero, veniva torturato e poi messo a morte, senza il conforto del sacramento. Bisognava confessare, anche se si era innocenti. Sono passati mille anni e la Procura federale nel mondo del calcio ha lo stesso metro. Puoi imbrogliare, brigare, comprare e vendere partite. Poi, se confessi e collabori, non c'è problema, tutto si può aggiustare. Puoi aver provato a rubare una pettorina in uno spogliatoio, ma se non confessi o non collabori, allora per te sono guai. Anche se sei innocente e quella innocenza provi a gridarla o dimostrarla. Nel calcio un pettegolezzo vale più di una montagna di prove. Ieri la Procura ha fatto, attraverso il procuratore aggiunto tornatore, una ricostruzione su Savona Teramo, basata solo su indizi e congetture e avvalorata da qualche intercettazione telefonica, da far impallidire il grande Isaac Asimov, uno dei più grandi scrittori di romanzi di fantascienza. Campitelli è un soggetto pericoloso nel mondo del calcio, va tolto di mezzo. Così come il Teramo, ricacciato in Serie D, con 20 punti di penalizzazione, tanto per restituirle un campionato di eccellenza regionale il prossimo anno. Il Catania e il suo presidente Pulvirenti, invece, meritano un altro trattamento. Loro hanno collaborato e allora vanno premiati. In verità, sarebbe stato difficile per Pulvirenti e i suoi dimostrare qualcosa di diverso, viste le intercettazioni. È come se ti prendessero in una banca con la pistola in una mano, il bottino nell'altra e volessi negare una rapina. Di quello che è successo al Teramo ne abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni. Sarà il Tribunale a decidere, ma l'aria che tira non è buona. L'importante è che dopo una procura da santa inquisizione non ci sia un giudice come quelli del vecchio e caro Far West, seduto al tavolo di un saloon, con la bottiglia di whisky sul tavolo, chiamato a decidere sul solito presunto ladro di cavalli che magari non lo era. Due minuti e cappio pronto per l'impiccaggione. Ecco, speriamo che Sergio Artico sia lontano da tutto questo. La giustizia non può e non deve essere sommaria. Confermare quelle richieste con una sentenza farebbe impallidire anche Kim Jong-un in Corea del Nord.